Sì, non solamente quello, poi piccole presentazioni e che altro? No, penso che col montaggio... No, ci siamo, siamo quasi. Sì, siamo pronti. Siamo pronti, siamo pronti per partire. Ok, quindi è tutto in ordine, si può... Ah, ma ci vedete pure voi? Sì, noi stavamo lavorando, stiamo per andare in onda e quindi a questo punto, visto che ci avete sorpreso, ci presentiamo. Io sono Alessandra, mi occuperò della parte giornalistica della nostra web tv e ne sono la responsabile. Poi, io sono Claudia e sono la speaker. Ciao, io sono Silvia, mi occupo di grafica e montaggio video. Io sono Claudio, seguirò la parte tecnica e il palinsesso. Io sono Milena e mi occuperò della segreteria di redazione. Eleonora, le interviste. Lo faccio Lo faccio è Ehi, 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 ehi! Dottor Di Polco, riceviamo un messaggio sulla nostra casella e-mail che ricordiamo è redazionichocciolaconsumer.it la signora Francesca Dativoli chiedendo se può assumere una compressa di Bantelan scaduta lo scorso mese questo è un po' quello che succede Siamo con Magda Petrigliano, legale interno di Garantisi S.R.L. Magda, che cos'è Garantisi? Con oggi iniziamo la rubrica di presentazione delle sedi di consumer presenti in tutto il territorio nazionale partiamo da Lazio e partiamo da Rieti vi presento l'avvocato Maria Antonietta Cenciarelli Buonasera Buonasera Antonietta dove siamo? Buonasera 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.